Il programma di Scambi Giovanni di Lions Il programma Scambi Giovanni di Lions nasce nel 1961. Anche per te, come lo è stato per moltissimi ragazzi, potrà essere un'esperienza indimenticabile. Le esperienze che si possono fare sono diverse. A un periodo trascorso in una o più famiglie scelte da Lions del luogo, può aggiungersi la partecipazione ad un campo insieme ad altri ragazzi di altre nazioni. L'esperienza in famiglia è fondamentale per la comprensione del paese ospitante. Il campo è una struttura abitativa dove si svolge un programma culturale, sportivo e soprattutto aggregante della durata di una decina di giorni. Levan, in vostra opinione, qual è stata la migliore attività del campo e perché? La meta può essere uno degli oltre 180 paesi del mondo nei quali è presente il Lions. Il periodo all'estero va dalle 3 alle 5 settimane e si svolge nei periodi luglio-agosto e dicembre-gennaio di ogni anno. Uno degli elementi cardine dell'attività è la reciprocità. Dovrai essere disponibile ad ospitare un giovane straniero. Il club sponsor sarà di supporto per rendere piacevole la permanenza dei nostri giovani ospiti. La disponibilità è alla base del service. Il compito del club è infatti anche di divulgare tra i soci questo service e fare in modo che i ragazzi interessati si rivolgano a loro. Per far conoscere l'attività anche nelle scuole, il club può indire un concorso che avrà come premio la partecipazione agli scambi giovanili. I ragazzi interessati dovranno avere requisiti di serietà e di interesse che verranno testati dagli officer incaricati del club sponsor unitamente allo staff degli scambi giovanili. Partecipa anche tu al programma di scambi giovanili Lions. La domanda va presentata ad un Lions Club locale entro il 31 dicembre. Puoi trovare tutte le informazioni necessarie sul sito della sede centrale di Oakbrook www.lionsclub.org